Ciao, ciao, ciao! Entriamo? Entriamo tutta la porta? Guardi, guardi, guardi! Ah, scusate, noi che non ci siamo mai... Guardi, guardi! Guardi, guardi! Guardi, 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 guard Maria, Anissa, Anu, Andrea, Ilaria, Andrea, Andrea, Federico, Federico, Paola. Ancora un applauso per questi ragazzi che hanno aperto questa serata. Quasi dove? Come è la prima nata? E non so che è la prima di che colore è questa. Oh, mamma, che bello. Non vedi come luce, che ha fatto maledetto, ma... Allora, dice Laura, volate al vetrino dei paletti. Oh, mamma, che bello. Che ha guidato, che ha guardato e allora Che tu hai cambiato verde Che tu hai cambiato? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti